Primo allenamento della stagione, le entusiasme tanto, cosa ti aspetti di aver reso quest'anno? Spero che riescano ad arrivare almeno nei play-off e boh, boh. Conosci i giocatori, c'è qualcuno che ti piace particolarmente? Mary Queens e Brandon Davis. Tanti nuovi giocatori, da chi ti aspetti qualcosa in particolare? Ma in generale mi aspetto un grande inizio da tutti e senza guardare i particolari spero che inizino veramente tutti bene giocando insieme. L'allenatore arriva a due buone stagioni a Pistoia, cosa ti aspetti da Moretti? A me ce l'ho visto, mi sembra un bravo allenatore, uno che sa di basket e mi aspetto un buon inizio e spero finalmente di puntare i play-off. Quindi forza Varese? Forza Varese sempre. L'entusiasmo è tanto, speriamo che quest'anno la squadra ripaghi questo entusiasmo. Certamente, sicuramente a meno nei play-off. Quali miglioramenti ti aspetti rispetto alla passata stagione, soprattutto sotto che punto di vista? Ma è una scommessa, nel senso che c'è tutto cambiato. Comunque sicuramente il modulo di gioco sarà diverso, speriamo in bene. Sono comunque fiducioso. Cosa vi aspettate da questa stagione? Speriamo che vada meglio degli scorsi anni e di arrivare ai play-off, nemmeno quello. Concordo. Da quale giocatore ti aspetti qualcosa in particolare? C'è qualcuno che già conosci bene? No, ho seguito tutto il mercato, penso che tutti siano validi e quindi dobbiamo vederli giocare prima di parlare. Quindi ci si aspetta tanto da tutti. Secondo te perché i tifosi quest'anno dovrebbero venire al palazzetto ancora numerosi? Bella domanda. La risposta sinceramente non ce l'ho, però vabbè dai. Sì, ci speriamo. Faremo sicuramente meglio. Abbiamo rinnovato anche quest'anno l'abbonamento, fiduciosi e speranzosi. Speriamo. Qual è l'augurio per questa stagione? Speriamo che sia migliore dell'anno scorso, di vincere qualcosa dai. Andare ai play-off. Cosa ne pensi del direttore Moretti e del direttore sportivo Rigoni? Diciamo che c'è da fidarsi di loro. È una prospettiva buona, ci auguriamo di sì dai. Cosa ti piacerebbe vedere dalla squadra quest'anno? Una squadra solida oppure una squadra più spettacolare? Tutte e due. L'importante è vincere. Cosa vi piace tanto da Varese? Cosa vi aspettate quest'anno? Una squadra forte che riesce a vincere le partite. Sì, e soprattutto, anche se l'anno scorso era una bella squadra, è andata abbastanza bene e speriamo andrà meglio. Chi volevi fosse rimasto dall'anno scorso? Io... Chiediamo alla sorella. Allora, Diavara e Rautin. Quindi sempre Forza Varese? Sì. Sì, sì. Grazie.